L'IMU-BIS L'IMU-BIS Già si erano levate proteste trasversali di PD e PDL. Proprio oggi, tra l'altro, il Centro Studi Artigiani di Mestre ha fatto un primo conto del peso fiscale dopo la stretta del governo Monti e il totale è 87 miliardi di tassi in più in tre anni, increscendo, provenienti molto più da tributi che da riduzioni di spesa. Oltre l'81% sono nuove entrate. Solo il 18,7% sono tagli agli sprechi.